Non voglio dire cultura perché pare brutto, però un po' sì, e se viene meno questa consapevolezza negli elettori, cioè nelle persone che devono scegliere i propri rappresentanti, la democrazia non sta più in piedi, finisce per essere un organismo svuotato, diciamo così. Ecco, quindi alla fine della prima repubblica, che si appunto, ripeto, probabilmente era, non dico indispensabile, ma insomma molto vicino a esserlo, non si è prodotto un passaggio di mentalità nelle persone, in noi, tale da avere una consapevolezza che ci permettesse poi di andare a cercare una seconda repubblica da un'altra parte. Cioè quello che la reazione che abbiamo avuto è stata, sono tutti marci, fanno tutti schifo, sono tutti corrotti, allora la cosa migliore è andare a prendere della gente che non sa niente, che non ha mai fatto niente, che non si è mai occupata di politica, perché questo significa che almeno non sono corrotti. Ecco, questo no. Però, secondo me, alla storia ci passerà il tuffatore, Raul Gardini, che si buttava, non colui che sta sulla piattaforma come Antonio Di Pietro. Il tuffatore di Elena Stancanelli. Grazie. Grazie a lei. Invece purtroppo passerà Di Pietro. E qui si potrebbe aprire, no, perché ha detto, forse non l'avete sentito, forse ci passerà Di Pietro la storia, non lo so, ognuno la fa propria la storia, quindi ognuno scrive il proprio libro. Grazie a tutti e grazie anche da parte mia per l'invito, perché è stato veramente molto interessante per me. Credo che la dottoressa sia disponibile anche per firmare i libri, qualora ci sia qualcuno interessato.